Ecco perché ho preso l'evere italiano in Francia. Per quanto sia italiana questa razza, in Italia si conosce ben poco e tutti gli allevamenti che ci sono hanno liste di attesa che sono infinite. Io ho scelto l'allevamento francese perché gli stessi allevatori italiani me l'hanno consigliato e direi che la scelta è stata azzeccata.